Dopo 16 anni in carica, la cancelliera tedesca uscente ha ottenuto grandi risultati sulla scena mondiale. Secondo uno studio del Pew Research Center, quasi l'80% degli intervistati sostiene di avere piena fiducia in Angela Merkel e di avere una visione positiva della Germania. Ma che dire della sfera politica europea? Quale eredità lascerà? Era un simbolo di molta serenità, sapeva essere zen, se così posso dire, in situazioni assai difficili. Se la guardiamo, lei è regolarmente al supermercato, vive una vita semplice, ma allo stesso tempo guida una delle più grandi economie del mondo. Penso che sia qualcosa da cui tutti i politici dovrebbero prendere esempio. È un europeista, molto preparata, prudente, un po' conservatrice. È una leader forte, ma penso che ora anche in Germania la maggioranza chieda un cambiamento. Penso che la necessità di un cambiamento sia necessaria anche in Europa. Il cambiamento in Germania è un dato di fatto, ma come potrebbero cambiare le cose dell'Unione e in tutto il continente senza la Merkel al tavolo delle trattative? La Germania dominerà di meno. Per oltre un decennio le decisioni sono state incentrate sulla Merkel in termini di leadership nell'Unione. Von der Leyen sta perdendo un mentor e quindi potrebbe essere un modo di indebolirla. Anche Emmanuel Macron si sta dirigendo verso elezioni che potrebbe perdere. Questo è davvero il momento per Ursula von der Leyen e Charles Michel di farsi avanti. Qualunque cosa accada e per quanto la sua eredità possa essere contestata, le generazioni future leggeranno di una delle donne più potenti del mondo e del suo ruolo nella storia europea. in european history. Maeve McMahan, Euronews, Brussels.